Via Roma, un tempo salotto ricco ed elegante della città, sta vivendo una seconda vita di stenti, di incertezze e continui cambiamenti. Auto sì, auto no. Mentre i negozi storici e bar delle vie adiacenti del centro chiudono, quasi a sentenziare impietosamente un declino economico innanzitutto, ma anche urbano e sociale, inarrestabile. Di recente è toccato al caffè Trieste di Corso Italia. In questi giorni è stata la volta del caffè del Viale, ex Talmone, in Viale Tenente Lena. Ma possibile che il rilancio di Via Roma e del centro storico di Ragusa Superiore abbia bisogno del passaggio delle auto che occupano ogni spazio ed inquinano? Mentre in tutte le altre città, con nuclei storici di pregio, le scelte vanno esattamente in direzione opposta e proprio grazie a queste scelte i centri rinascono economicamente, socialmente e culturalmente? Il sindaco Cassi ha annunciato di voler riaprire al traffico automobilistico Via Roma. Sia pure parzialmente, magari attraverso l'istituzione di una ZTL, zona a traffico limitato. Ma questo è solo uno degli interventi sul centro storico. A pochi metri dal comune c'è il vecchio, fatiscente e angusto palazzo del Tribunale, peraltro privo di requisiti di sicurezza. Il comune starebbe valutando di scambiarlo con l'orribile palazzone del costruttore Santo Tumino, edificato nei pressi dell'ex provincia e mai messo in funzione. Qui potrebbe trasferire tutti gli uffici giuriziari, mentre Tumino, nel vecchio palazzo di Via Trasportino, potrebbe realizzare una nuova avventura imprenditoriale. Fantasie? Pare di no, perché la trattativa sarebbe in corso. E intanto pubblicamente si discute di Via Roma. Auto sì o auto no? Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS